salve ragazzi e bentornati nel mio canale oggi siamo qui finalmente con outlast finalmente arrivato anche su playstation 4 era ora che dire questo gameplay durerà 15 minuti per la condivisione della playstation 4 perché ancora non ho il modulo di acquisizione ragazzi spero di prenderlo presto ma che dire la grafica è bella 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 almeno per adesso fatta bene non ho mai giocato questo gioco su pc quindi è la prima volta che mi ha dentro dentro a sto posto del merda mi piace all'ansia ragazzi io ho visto qualche spezzone su youtube di altri colleghi per così dire ecco come vediamo ragazzi vabbè questo è il foglio di un'email che ci è arrivata non mi conosci devo fare in fretta forse mi controllo non ho lavorato due settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica murkov e così via non ci interessa queste sono le pile di importanza vitale è l'unica nostra fonte di salvezza è questa cazzo di videocamera si ok bravo fa anche lo zoom ma non ci interessa basta basta levati dai che mi fa scaricare la batteria su ok perfetto e si comincia bene via vengono aggiornati con quello ok perfetto qui non c'è nulla no che posso andare madonna che brutto sto posto rega che brutto ok per aprirla lentamente eh no ho sbagliato l1 che corre r1 che la telecamera e che intenzione è quello bene 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 entriamo va apri open door non si apre bene ci dopo una guardiano apri me zio niente eh vabbè ma sti furgoni tipo antisommossa militari no eh cerchio per accovacciarti vedo quella finestra aperta lì sopra andiamo su va via ok poi picchio me devi spiegare come cazzo deve uno commento che vengono qua dentro a dire che tutte queste cose premix tutti i giochi sono uguali tanto eh questo è il fargaggio che c'è già ma perché siete un po sfogato quando accennate le camere tu me devi far vedere bene che poi si rischia la vita si rischia non esce quella del ring dallo schermo perfetto proseguiamo di qua molto diverso di essa un ufficetto batterie la mia salvezza ok questo muro è pieno di tarle apriamo questa porta non aprite quella porta documento iniziate il paziente vph billy il mio vecchio cagnolino sesso maschile l'età del paziente 19 paziente afferma di essere in grado di diminuzione di proviso un bel paziente un bel pazientino ok qualcuno deve fare la pipì e io di certo non aspetto che si libera me ne vado via ok che cazzo e calla me volevi immazzare pezzo del merda me ne vado via su tutti i giochi che gioco vaffanculo è sempre qualcuno che mi fa ammazzare a me io salvataggio ok entriamo qua ehi una madonna un croce ho fatto che ha un infarto ho fatto che ha un infarto ho fatto che ha un infarto mamma che giusto uff non c'è la testa adesso sta qui oddio ma che cazzo sono un librero testico si bravo bravo non scioglie sta avvicinato a te e tu strigli fa venire la gente c'è niente cosa la libreria non c'è da cazzo senza torile camera bene questa è l'importanza della nostra vita videocamera chi è quello mmm che disolanzia ok no oh non uscire non uscire via 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 che cazzo è oddio è un modo brutto ecco già sono morto un modi è che sta luce alieni ci stanno oh che è che stai facendo si 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 senti non potete fare nulla se non scappa quella cosa brutta bellissimo tu sei veramente bello ciao tre sposer pisello oh un altro si non farà prendilo lo leggiamo dopo oh che figo lascio impronte bello ok a 100 si andiamo a 100 questa era una postazione per giocare a lol stavano a fare i campionati e sono morti tutti ok qui non c'è niente non c'è proprio niente però c'è questo prendiamolo lo leggeremo dopo perchè sennò quelli gameplay va a farsi fottere questo chi cazzo è un buon massaggino io ho ancora il più finale però piano ma è cieco ecco alla guarda io torno subito prendo in cappuccino due cornetti e ve li porto subito tu che vuoi qua seduto ok ti porto una pizzetta arrivo subito eh arrivo subito ok oddio che cazzo sta a fare questo ah una scheda ok si non te muove si non te muove però eh va adesso l'ho morto e sei muerto batterie o qualcosa niente non c'è nulla ok qui abbiamo preso quello che ci serviva allora ho portato il cappuccino quei cornetti li lascio qui eh a posto io vado io non ci sono eh non esisto per voi fammi guardate le spalle questo è in sasanna e mancula la porta così non vi disturbo guarda a te non ti ho preso niente perché ho finito i soldi e non vado scemo che strumento è brutto se hai capito da solo perché io non ti ho capito no vabbè mi sono offeso vuoi che ti aiuto ti rimetto sulla carrozzina no eh ok ti rimanio là però ok mi sono messo a dormì qua si va a passare un po' che cazzo ok mi vado viste chissà un brutto di rome la fame qua non si sa mai fammi chiedere la porta quella è rossa comunque ragazzo il gioco è bello proprio tu ok dove vado la porta è sbarrata questa è sbarrata oh quel cazzo era e per esempio si è scelto sul sangue ma vaffanculo ha fatto un infarto con due non si è manco buono a camminare oh porco due allora mi stanno a cascare le cuffiette perfetto l'ascensore funziona ma che cazzo ah è cascato uno si dico il cazzo che ci vado ricorda che puoi guardare giro le tue spalle prendendo l2 no lo stai facendo ma tu non mi fai guardare dietro vabbè non mi interessa oh oh cazzo questo posto è brutto perché parlo piano io non voglio far finire questi però beh se qua c'è la batteria vuol dire che non mi dovrebbe succedere niente perché la porta mi si è chiusa io non l'ho chiusa aiuto io c'ho paura regà non male che il gameplay è quasi finito ok io rimango qua faccio le pulizie ah ok adesso è morto mentre cagavi qualcuno ha cagato teste oddio che poi se tu continua a lasciare impronte per terra è una gente vera dove stai bene interagisce ok e chiudi subito bene si un computerino ok accesso di sicurezza si veloce però dai che mi manca poco tempo prima che mi finiti che cazzo sta a fare questo no 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 oddio oh cristo oh cristo merda 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 non l'apri non l'apri non l'apri non l'apri bene ok ragazzi il tempo è scheruto qua c'ho le mutande completamente marroni se il video vi è piaciuto ragazzi mettete un mi piace iscrivetevi al mio canale e alla prossima ragazzi bella a tutti sì ecco